Da un lato l'intento di assicurare massima sicurezza da alunni, personale e genitori, dall'altro la strenua voglia di chiedere tempi ristretti per gli interventi necessari. Dal 5 settembre 2016, data in cui il cedimento di una parte del solaio in un'aula al piano terra aveva condotto all'interruzione delle attività presso la scuola materna ed elementare Massimo D'Azeio, uno degli edifici storici di Barletta, l'interrogativo permane. Quando l'istituto tornerà ad ospitare regolarmente le elezioni, è la domanda portata all'attenzione del sindaco Pasquale che ascella questa mattina dai componenti della Commissione Lavori Pubblici. I monitoraggi realizzati dalla ditta SGM sono intanto al 70%, occorreranno ancora 75-90 giorni per ultimare i controlli che constano di indagini riferite alla stabilità e alla sismicità dell'edificio. Solo una volta completati gli esami del caso sarà possibile stimare la sorte della d'Azeio. Nella migliore delle ipotesi si procederà con più stralci di intervento, rendendo parzialmente agibile di volta in volta ogni ala della scuola. Se invece lo stato dell'arte dovesse rivelare una situazione più complicata per l'edificio che risale agli anni 30, occorrerà procedere al consolidamento statico. Interventi che fanno rima con corse contro il tempo, c'è infatti la necessità di farli rientrare nel piano triennale delle opere pubbliche, estendendo una progettazione in tempi ridotti. La Commissione intanto, nella persona del Presidente Flavio Basile, ha chiesto all'amministrazione e al primo cittadino interventi rapidi che assicurino sicurezza e gestione degli spazi oggi congestionati nei quali sono stati destinati gli alunni della d'Azeio. Una richiesta che sa di unità di intenti con l'amministrazione comunale. Vorremmo anche noi stringere i tempi, ha assicurato il Sindaco Cascella, ma occorre fare i conti con la realtà. Vogliamo che l'Istituto sia quanto più sicuro possibile in questo orientamento va alla delibera del 5 settembre. Solo una volta esaurite le indagini del caso potremmo avere un quadro chiaro della situazione. L'importante, ha spiegato il Sindaco, è che gli alunni non abbiano pagato d'Azeio con ritardi all'avvio delle regolari lezioni. 136 giorni dopo, di fatto, sulla scuola di Corso Garibaldi resta un grande punto interrogativo. Per News24 City, Luca Guerra.